in seguito a un'attenta valutazione la fondazione regionale arte nella danza conferisce sette borse di studio a sezione gruppo danza di carattere 12 13 anni dance evreysk dance di carattere 16 17 anni dance arab borse individuale per danza classica individuale 12 13 anni variazione cipollino passeccinic ala dance classic individual 12 13 anni variazione aurora tataru anastasia juana gruppo danza di carattere danza irlandese 14 15 anni poi trio dance classic 12 13 anni vals e dance classic trio padutro a 14 15 anni complimenti vi aspetto all'international dance summit luglio 2022 che si svolgerà ad ancona grazie di nuovo e molto successo grazie a tutti